ok prossimos partitos che vanno a star pareste mundial de catar 2022 son por l'appunto argentina arabia saudita in mexico contra polonia come saprà adesso allora argentina contro arabia saudita stiamo hablando del gruppo se argentina arabia saudita che può fare l'arabia saudita contro l'argentina dìgamelo dìgamelo ma se lo dico io l'arabia saudita non può fare nulla si acaba lì la storia non può, se vuoi cosa vuoi fare non può fare nulla argentina se lo dico nel gruppo se non tiene rivali che le può dare seri problemi per lo tanto argentina gana sin problema salvo il signor dinero che influye nei partiti per causa di di apposta di apposta di diplomatica eccetera eccetera salvo questo non può fare con l'argentina in questo gruppo ovviamente per fattori diplomatica l'argentina non credo che si può fare un paese arabi per una questione di rispetto e per lo tanto se limiterà a ganare 1 a 0 l'argentina può anche permetterci di impattare o incluso di perdere perché sape che nei altri partiti va a ganare senza problemi detto questo vamos a parlare invece dell'altro partito che è mexico contro polonia ora già abbiamo visto che mexico frente a suezia non può fare nulla e non si tratta cioè non è che io mi sperava che mexico abbia potuto fare qualcosa con suecia me refiero al fatto che non ho visto che mexico ha mostrato un hueco un sistema di moverse astuzia particolare fórmulas di hueco che possono competire con le elezioni europee di questo calibro ho visto che non può non lo tiene probabilmente necessita di molto più tempo io lo dico che il fútbol di mexico è un buon fútbol però sta ancora leccano da gli europei almeno di determinata selezione non può contro polonia non può dire sì però è stata una posizione l'unica possibilità che tiene mexico per decogare un hueco che sia completamente oposto alla mentalità del hueco argentino perché desgraciatamente los errores de los entrenatori come in questo caso martino italiano argentino che hanno una scuola che che si basa in empujare attaccare però questo si tu non tienes un corporativo una scuola che forma futbolista del calibro come per l'appunto l'argentino se non tiensi questo tipo di scuola e attaccare significa solo scavarsi la fossa solito e ti vas a enterrar solito solito perché frente a un gigante come polonia e che ora poi ademais non stiamo parlando di un amistoso a un va dito che polonia frente a pretene ragazzi perché non vengono di un amistoso 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 freddo anche a un equipaggio come chile e gli dico ai dirigenti di chile o direi non vuoi un partito tranquillo perché perché vogliamo collaudare i nostri futbolisti e vogliamo vedere dove possiamo arrivare, dove non possiamo arrivare, quali sono i nostri limiti. Quindi Cilè si accoglò anche perché Cilè ovviamente per una questione di immagine, di sua capacità, frente a un equipaggio come Polonia non voleva dare le chance di niente e si viva praticamente un partito battagliato, dove per l'appunto Cilè le dio seri problemi a Polonia e Polonia solo cerca del final supo definire con varie azioni di occasione dei gols e finalmente logrò mettere un gol. Però praticamente i due mostrano un altissimo rendimento tecnico. Ora se voi pensate che nel famoso partito tra Cilè e Mexico, dove Cilè le dio una mega palizza a Mexico che era una cosa come 7-8 gols a 0, o qualcosa di così. Te puoi immaginare lo che faccia Polonia il giorno che va a affrontare in questo partito con nella cancia dentro un futbolista come Lewandowski. Los polacos tienen un hueco di alta classe, molto definito, sono molto precisi nei passi e nella definizione. Vosotra ha visto che in mexico a la ora di quere definire quando sta cerca della porteria avversaria, ha fatto tirassos abbastanza centrali, non sono molto angolati, eccetera, eccetera. Tiene molte equivocazioni, però non sono tutti i titulati. Io devo dire che uno dei miei preferiti dei futbolisti mexicani, che già l'avevo scoperto hace anni prima che si cotizasse, era Chucky Lozano, che è un futbolista molto veloce, molto preciso, ha un grande dribbling. Però, recentemente, ho scoperto a un altro futbolista mexicano che per me è il migliore futbolista che in mexico ha. Il migliore. E la maniera. Io mi ho ficato, perché lo fui a investigare attentamente, dopo averlo visto in un partito, mi ho fui a investigarlo attentamente in diversi videos di diversi partiti, perché lui gioca con un club, mira caso, gioca con un club portoguese. E, di vero, questo futbolista che si chiama Diego Lainez Leiva. Diego Lainez Leiva, è davvero un mostro. Tiene un toque, un controllo del ballone con il piede, acaricia il ballone, lo muove con una elasticità, logra driblar in una maniera molto più raffinata. di vero, altissima classe, che sembra un futbolista di Francia, di Argentina, di Alemania. O sea, sembra un futbolista di vero, di altissima classe. Mueve il ballone come pocchi, e per me è stato molto, molto, molto più raffinata di Chucky Lozano. E ricordatevi le mie parole. E questo futbolista, sto convenzionato che nei prossimi anni, su vita di cotizzazione e un club più alto dell'Europa lo va a comprare. Ricordatevi di quello che sto dicendo. Questo futbolista per me fa la differenza. Può servire il ballone, può desmarcare il 2-3, ma come si marca la maniera? E se Chucky Lozano è veloce, questo è ultra veloce, è una flezza. È una cosa incredibile. Con che elasticità, con che rapidezza, si muove nella canta, e incluso me ho spiegato che a differenza di Chucky Lozano, Chucky Lozano anche ha una capacità di definire con tiros angolati, però a volte non ha un buon controllo e il ballone se le va. Mentre che l'Aines, a differenza di Chucky Lozano, è molto, 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 molto molto più preciso. Hace filtrare ballone che sono misili molto angolati in spazios reduciti. De verità, è una alta classe. E sto convenzito che questo futbolista, se Martino lo prepara con combinazioni di triangolazioni con Chucky Lozano, in un dialogo tra l'Aines, Chucky Lozano e un altro molto talentoso, può, di verità, con una grande preparazione e alta velocità, combinazioni molto articolate, che non sono predecibili, perché davanti a un gigante come Polonia non ti va a quedar facile fare queste giuglie. E se il futbolista nell'attacco può fare la differenza, molto, molto differenza. Però ovviamente, i polacchi già lo saono, sono molto cuidati a studiare lo che può fare l'avversario e, per l'attacco, e, per l'attacco, e, per l'attacco, potrebbero cerrar, le azioni che potrebbero fare l'attacco con questi futbolisti. Però, se Martino prepara combinazioni che distrae, depista e non sono predecibili nei movimenti, potrebbero metterci. Ovviamente, per me, il sistema di hueco che tiene questo entrenatore, che è típico della mentalità argentina, lo di attaccare e non preoccuparsi della defensa, in questo caso, non le va a funzionare. Perché non le va a funzionare? Non le va a funzionare perché il Mekico non è l'Argentina. O sea, per essere un hueco di attacco che frente a un gigante come Polonia deve avere un corporativo di una selezione che sia come Chile per entendere. Però Mekico non è Chile. Mekico non è Chile. Así che, io non la veo una buona idea di preoccuparsi di attaccare. Per me, qui si deve mettere un hueco alla italiana, un hiper alla italiana. di attaccare. Non catenaccio, hiper catenaccio. Tiene che preparare un hueco che sia di verità molto ostacolativo, molto di barrera in tutta l'area della defensa. Cerrare e predecir le azioni che possono fare e cercare i polacici e cercare tutti i espacios. Incluso lograr mettere futbolisti 2-3 che vanno contra 1 e che se logra desmarcar questa barrera questi 3 invece di quedarsi allì perché quasi sempre lo che ho notato di Mekico è che una volta che viene desmarcato questi che viene desmarcato quedano allì perché che allì hai che muovere e regresare io vi questa aczione in un mondiale femenino dove la entrenatora della selezione japan femenino me ricordo che aveva planeato un hueco di defensa che io non ho mai visto che era che 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 due futebolare si venivano desmarcati queste due non quedaron allì regresaron ose questo futebolista lograva desmarcar a due japonesi e ibano e già due ibano a le due che avevano desmarcati precedentemente non si quedaron allì nella cancha dove erano desmarcati al contrario in velocità rapidissima regresavano per creare nuovamente altra barrera in pratica cada barrera che venia eventualmente desmarcata se regresavano per formare altra barrera era una cosa devastante perché al final lograva blocciare il l'avversario non podano entrare questo è una delle idee che io faria per creare un catenaggio un mega catenaggio che cierre tutti i movimenti anche predile che se un futbolista di Polonia a la ora che si si pressione e cerrata va rapidamente a passare il ballone a un suo compagnolo che si crea una triangulazione allì hai che intuire questo passe e bloqueare interceptare robare il ballone a los polacos antes che il ballone che a uno di sus compañeros blocar il gioco presionare e cercare tutti i spazi se México hace un gioco di concentrazione a la defenza questo va a provocare che i polacos se verano obligati a impegnare più futbolisti questo significa che van a descuidare su porteria e se succede México tendrà l'opportunità a la ora di enganciare il ballone di filtrarsi e andare in contro campo dove encuentran praticamente la defenza desprotegita e un futbolista muy preciso come por ejemplo Lainez può sin equivocarsi mettere un gol muy angulato e allì tener un gol in ventaglia significa que luego si Polonia te va a meter un gol tu ya en eso tendrías la posibilità de empatar porque se lo digo de ganar con Polonia es imposible Polonia tiene un coeficiente técnico y tienen hombres tienen una escuela de fútbol de verdad que muy muy más adelantada la de México y te pueden masagrar de goles te pueden masagrar de goles para México está el riesgo México si se va a jugar abierto si va a jugar preocupándose de atacar para Polonia esto le va a quedar muy fácil moverse en la cancha van a ser mucho más libres y van a encontrar fácilmente bastantes espacios para masagrar de goles yo se lo digo Polonia 2-3 a 0 le puede meter a México y luego quedarse tranquilita para monitorar el partido sin cansarse porque si Polonia decide que después de 2-3 goles decide de seguir goleando estos a México le meten seguro seguro 7-8 a 0 como lo hizo Chile en pasado así que para México según yo la única oportunidad tienen que preparar los futbolistas muy muy bien la única oportunidad que México tiene es de jugársela en catenaccio con grandes pressing y grande astucia de de intercettar el ballón de l'avversario y cerrar todo los espazios no permitirle a Polonia de meter ni un gol es la unica posibilidad que México tiene de lo contrario no van a poder obviamente yo no confío que esto va a suceder porque sé que la mentalidad generalmente de todos los entrenadores argentinos no no de catenaccio es de atacar pero el error es que no tienen en cuenta que aquí no es Argentina contra Polonia aquí es México contra Polonia y la música cambia completamente Polonia es devastante nada no sé vosotros qué piensan décan un comentario este todo los veo para más videos cabrones e cingones ciao alla prossima